Piazza anche Andrea Cantolupo su palo, parte Busino, rete di Busino, si slaya a bollì zero, Fuzza la fragola uno, Carofalo di piatto, ancora Carofalo, uno a uno, numero due, Giuliano, ancora per Busino, 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 Santimone, Santimone scorda in mezzo, Carofalo di Tacco, Marcigliano, Marcigliano, Finax di Slemboli due, Fuzza la fragola due, il gioco di Palumbo per di Tacco, bellissimo, Paolillo, Paolillo che magia, Fuzza la fragola tre, Finax di Slemboli due, con Busino, e ma si chiude molto bene la fragola, Busino, Busino di Ponta, sotto le gambe di Carofalo, Fuzza la fragola quattro, Finax di Slemboli due, Mischia a fuori Ponda, ancora Righi, per numero dieci, Palumbo e mezzo, è la rete del numero otto, Fardello Gernaro, Fuzza la fragola, cinque, Finax di Slemboli due, Sansone ancora per Cantalupo, Cantalupo per Garofalo, attenzione, Paolillo anticipa tutti, Paolillo, Petolicchio, 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 Petolicchio per Iorio, prova a riaprirla, Umberto Iorio, Slemboli tre, Fuzza la fragola sei, Santimone, attenzione, Paolillo, 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 Ciabatta, sette a tre. Il primo tempo l'abbiamo tenuto benissimo, tutti e trentadue i minuti, tre a due per loro, ma potevamo stare anche in parità o addirittura sopra, perché è stata una partita equilibrata, sono andati loro in grande difficoltà. Il secondo tempo sono usciti, loro forse si sono un po' organizzati negli spogliatoi, nello spogliatoio hanno messo a posto delle cose, abbiamo avuto più difficoltà, siamo stati più macchinosi a fare il nostro gioco, che comunque senza Pacileo è penalizzante, assolutamente l'assenza di Pacileo, però loro si sono organizzati meno. Il secondo tempo ci hanno messo in difficoltà, abbiamo perso un paio di palloni e la partita è andata sul 5-2 e sul 5-2 purtroppo abbiamo mollato.